Stiamo parlando il giorno dopo della giornata mondiale dell'acqua, quindi sicuramente questa è un'occasione propizia per pubblicizzare questa iniziativa. La Croce Rossa, anche se non sembra, è impegnata in tantissimi settori, tra cui anche quella della promozione delle buone pratiche ecologiche. È uno degli obiettivi strategici che la Croce Rossa a livello nazionale si è data per i prossimi anni, quindi come obiettivo a lungo termine. Noi qui nella nostra sede avevamo dei distributori di acqua con i bicchieri di plastica, il classico boccione di plastica che ogni volta viene sostituito e abbiamo deciso in collaborazione con Marche Multiservizi e grazie soprattutto alla loro disponibilità e sensibilità, in questo senso abbiamo deciso di cambiare e installare grazie a loro questo erogatore di acqua collegato alla rete pubblica e abbiamo consegnato e consegneremo nei prossimi giorni a tutti i nostri volontari e dipendenti queste borracce per poter bere da questo erogatore. Complimentiamo con la Croce Rossa e con il Comune di Pesaro per questa iniziativa che per noi è molto importante per cercare di sensibilizzare un po', a partire da tutti i comitati territoriali che possano seguire l'esempio del Comitato di Pesaro e utilizzare gli erogatori nelle proprie strutture, per cui ci consente di sensibilizzare in maniera circoscritta i volontari della Croce Rossa, ma questo vuol dire che tutte le aziende, tutti i cittadini debbano capire di più forse rispetto a quello che è l'abitudine che il consumo dell'acqua dell'acquedotto, anche non filtrata come in questo caso da un erogatore, quello dell'acquedotto è un'acqua buona, di qualità, che è controllata da marche multiservizi in maniera puntuale attraverso il proprio laboratorio interno e questo non solo è un risparmio in termini economici per le famiglie ma soprattutto quello che noi puntiamo come anche mission aziendale, quella della sostenibilità ambientale che rendicontiamo nel nostro bilancio di sostenibilità, consente come ormai è evidente a tutti la riduzione della produzione di plastica e quindi di CO2. Grazie